Sono il dottor Amore Claudio, responsabile sanitaria della Clinica Veterinaria Amore. Vi aspettiamo anche solo per una consulenza. Il nostro recapito telefonico è 089 462633. Riapre dopo sette mesi il centro di accoglienza ed assistenza Raggio di Sole. A Scafati ritorna così, nella disponibilità dei circa 30 ospiti della struttura, il centro che sarà attivo fino a tutto il prossimo mese di luglio, aspettando l'eventuale proroga da parte del subambito S2 del piano di zona. Questa mattina una giornata di festa per un ritorno a casa, festeggiato da operatori ed ospiti. Oggi, 3 aprile 2017, riapre di nuovo a San Pietro il centro ludico ricreativo polivalente di Scafati dedicato ai disabili, fortemente voluto, per accogliere questi ragazzi speciali. Riapre i battenti dopo sette mesi di assenza. Di nuovo questo centro Raggio di Sole. Il parroco Don Giovanni De Riggi si è prodigato e si interesserà di mantenere la struttura e per fornigli tutto quello che occorre per il sostentamento della struttura dei ragazzi a livello di materiale, didattico, soprattutto per il supporto spirituale dei ragazzi. Una lunga attesa premiata anche grazie all'interessamento del commissario cittadino e del parroco della parrocchia madre della città. Un impegno sociale per un servizio fondamentale per i tanti ospiti della struttura che si ritrovano ogni giorno condividendo attività e momenti ludici, un sollievo per le famiglie ed un rinnovato impegno per gli operatori. Sicuramente è stato un vero miracolo perché la speranza non l'avevamo mai persa, sicuramente non l'avevamo mai persa, però c'erano sempre degli ostacoli che ci impedivano di riaprire e fortunatamente forse il destino ha giocato dalla nostra parte per cui i commissari hanno chiesto a Don Giovanni, che è il parroco di Santa Maria delle Vergini di prendersi cura, meno per il momento, della nostra struttura. lui ha accettato, per cui ha dato la possibilità a noi di poter tornare con loro e ai ragazzi di poter tornare al centro.